E come extra all'arancia meccanica, o forse anche come introduzione al pezzo che carico adesso, vi farò l'imitazione in italiano, è il doppiaggio di Il Grandissimo, ad Alberto Maria Merli, la scena della Baia del Cemento Abitato, cioè quando i drughi camminano vicino al lago artificiale, ci provo? Mentre camminavamo lungo la Baia del Cemento Abitato, ero cammino di fuori, dentro pensavo, allora adesso chi comanda già decide cosa si deve fare, cosa non fare, Edim è il suo tonto degrediante a Muntok, e d'un tratto capì che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si sfidano all'ispirazione, a quel che Bon Bog manda loro, la musica vi viene in aiuto, c'era una finestra aperta con uno stereo, seppi subito che cosa fare. Grazie. 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 Grazie.